Bentornati amici, torniamo sul set di uno dei miei ultimi shooting fotografici. Oggi vi parlo di fotografia di interni e ritratto corporate. Spendiamo due parole riguardo al cliente. Spendiamo due parole riguardo al cliente. La richiesta del cliente è semplicissima. Vista l'apertura del nuovo punto vendita a Milano, si richiede uno shooting fotografico di interni e delle foto di ritratto corporate del personale che lavorerà presso il punto vendita. Ora, questo punto vendita è situato all'interno di una villa molto particolare in centro a Milano, un edificio storico per il quale non è previsto un accesso al pubblico a meno che non sia un pubblico interessato all'acquisto. Quindi è una villa che non è visitabile, è una villa privata chiusa al pubblico che affitta degli spazi. In questo caso Watchfinder ha affittato una sede all'interno di questa villa per poter invitare i propri acquirenti a vedere gli orologi piuttosto che a contrattare il prezzo di catalogo. All'interno di questo edificio c'è quindi una stanza adibita a showroom. In questa sede noi abbiamo realizzato le foto di interni della stanza adibita a showroom, ma visto che si trattava di una location particolare abbiamo scattato anche le foto di interni della villa che servono sempre al cliente per far vedere quanto è prestigiosa la propria sede. Sempre all'interno dello showroom abbiamo scattato anche le fotografie di ritratto delle persone che andranno a lavorare all'interno di questo punto vendita, quindi si tratta di un semplicissimo ritratto corporate. Andiamo adesso a vedere come sono state realizzate queste immagini. Per quanto riguarda il setup è estremamente semplice perché abbiamo il nostro treppiede Manfrotto e la nostra fotocamera Canon che in questo caso era la 5D Mark IV con il 16-35mm. In questo caso essendo uno shooting diurno senza particolare invasività di spotlight ho preferito utilizzare il 16-35mm perché così l'ho utilizzato sia su treppiede sia a mano libera in certi casi, quindi lo stabilizzatore in certi casi mi ha fatto comodo. La maggior parte delle immagini vengono ovviamente scattate con tecnica HDR, quindi con il bracketing a 3 stop. In questo modo siamo in grado di ricostruire la scena in maniera più fedele possibile in post-produzione. Questo semplicemente perché scattando una singola fotografia, come vi faccio vedere, non siamo in grado di catturare quella che è l'essenza della scena che abbiamo di fronte. Nel momento in cui abbiamo una scena con luce ibrida, per cui abbiamo parte della luce che proviene dall'interno e parte della luce che proviene dal sole all'esterno, il contrasto è così forte che un sensore di una fotocamera normale non è assolutamente in grado di gestire una gamma dinamica così ampia. Per questo motivo si bara, se così vogliamo dire, utilizzando il bracketing. Questa tecnica consiste nello scatto di tre fotografie, di cui ce n'è una mediana che dovrebbe essere l'esposizione giusta o quantomeno la più giusta possibile. Dopodiché abbiamo una foto sottoesposta e una foto sovraesposta. Di quanto lo decidiamo noi? Possiamo andare da 0 a 3 stop. In questo caso io ho utilizzato tutti i tre stop che avevo a disposizione sul bracketing della mia camera perché la differenza di luce tra dentro e fuori era veramente molto molto ampia. Quindi ho preferito stare largo e catturare quante più informazioni possibili sia nelle alte luci sia nelle ombre. In questo modo riesco a ricostruire un'immagine che ha una gamma dinamica espansa rispetto a quello che normalmente sarebbe consentito dal mio sensore. Questo mi consente di fare una postproduzione più invasiva, di avere uno scavo maggiore delle ombre, di avere un recupero maggiore nelle alte luci e in generale di potermi gestire meglio la gamma dinamica e di avere anche una gamma cromatica migliore. Ovviamente tutto questo è possibile grazie all'utilizzo del cavalletto. Se avessi dovuto scattare a mano libera questo non sarebbe stato possibile perché è pur sempre vero che io posso fare lo shooting HDR anche a mano libera. Ho lo stabilizzatore, sto usando un grand'angolo quindi più o meno me la cavo. Tuttavia all'interno di questa villa certi ambienti erano piuttosto scuri per cui è stata necessaria un'esposizione lunga che non sarebbe stata possibile a mano libera. Quindi un bracketing di questo tipo senza cavalletto non sarebbe assolutamente stato possibile. Siccome noi vogliamo sempre garantire al cliente la massima qualità possibile ci serviamo del cavalletto così riusciamo a fare tutto questo lavorando a isobassi e quindi abbiamo la qualità maggiore possibile non solo ma utilizzando il cavalletto quindi con una posa lunga possiamo anche chiudere il diaframma. Questo è un plus in una situazione di questo tipo perché qui noi non vogliamo avere un diaframma aperto e quindi avere una profondità di campo che lasci qualcosa fuori fuoco. In questo caso noi vogliamo l'intera scena a fuoco perché vogliamo rendere per intero quelli che sono gli interni quindi un diaframma chiuso è nostro alleato in una sede come questa. C'è stata una prima parte dello shooting dedicata agli interni della villa interni che non appartengono al cliente ma possono venire occasionalmente utilizzati come showroom quindi nel caso in cui ci sia un cliente che acquista un orologio importante è possibile riceverlo in un'altra sala della villa per fargli vedere uno spazio più ampio e dargli più ampio respiro durante la contrattazione. La seconda parte dello shooting si è svolta all'interno della stanza effettivamente adibita a showroom del nostro cliente quindi una stanza più piccola degli ampi saloni della villa ma con un mobilio fatto su misura e fatto arrivare appositamente da Londra apposta per arredare il punto vendita in modo da mantenere una coerenza visiva all'interno di tutti i punti vendita che passa dai colori quindi i colori sociali, il logo stampato sul muro e anche il mobilio. Le foto di interni dello showroom si sono svolte esattamente nella stessa maniera lo showroom era molto piccolo quindi non ci sono state molte possibilità di cambiare angolazione era una stanza abbastanza piccola per cui sono stati scattati gli angoli in maniera tale da rendere nel complesso quella che era la stanza alcune angolazioni sono state accuratamente evitate perché c'era la postazione computer che non era bellissima da vedere quindi si è preferito non mostrarla in questi scatti e mostrare invece l'angolo opposto della stanza dove c'è il tavolo con il divano e le sedie per far accomodare i clienti sempre all'interno di questo piccolo showroom è stato realizzato anche lo Shooting Corporate qui si tratta di fotografia di ritratto quindi cambiamo completamente genere infatti abbiamo una seconda camera che in questo caso è una 6D è una Canon EOS 6D con montato l'obiettivo 24-70mm f2.8 con questa lente vengono realizzate le foto che vi faccio vedere questa scena ovviamente non è così come si presentava ai nostri occhi questa è una scena illuminata è una scena illuminata con una torcia Flash Godox un SK400 versione 2 specifico la versione 2 perché la versione 1 se ricordo bene non riesce a scattare tramite trigger wireless quindi è importante distinguere questa cosa abbiamo fatto lo Shooting con i trigger wireless per non avere l'ingombro dei fili all'interno dello showroom che già non era grandissimo metterci di mezzo anche i fili sarebbe stato molto scomodo per tutti quindi trigger sempre wireless funzionano a meraviglia e la resa è quella che vi ho fatto vedere quindi perfetta il modificatore scelto è un Octabox sempre della Godox da 80cm che ci garantisce questa luce bella morbida che vedete su questi ritratti la scelta viene fatta appositamente perché scattare con la luce presente nel negozio non ci avrebbe garantito una resa qualitativa professionale dello Shooting trattandosi di fotografie corporate per un negozio importante un brand che sostanzialmente verte sul lusso abbiamo deciso di dare l'illuminazione migliore possibile nonostante il poco spazio quindi setup da una singola luce per non ingombrare perché due luci, due modificatori, due piantane non ci sarebbero state bene avremmo dovuto spostare dei mobili invece in questo modo lavoriamo in maniera snella perché utilizziamo una sola luce con un solo modificatore abbastanza ampio da coprire la porzione di scena che vogliamo illuminare ovviamente illuminiamo correttamente i nostri ritratti con un esposimetro a questo punto siamo pronti per realizzare gli scatti vengono realizzate tot fotografie da cui poi il cliente fa la sua selezione parlando delle difficoltà durante questo shooting sicuramente è stato molto dispersivo scattare all'interno della villa è stato molto difficile per me staccarmi da questi ampi saloni in cui avrei voluto trascorrere ore e ore fotografandoli in lungo e in largo invece ho dovuto fare in fretta perché il mio focus principale non era la villa non erano i saloni ma era lo showroom del mio cliente quindi realizzato in fretta le foto dell'esterno della villa che era molto bello e le foto dei saloni interni dove c'era consentito andare perché alcuni saloni erano occupati da altre aziende quindi dove c'è stato possibile scattare abbiamo scattato all'interno della villa questo mi ha portato via un po' di tempo era la parte nettamente più divertente dell'intero shooting quindi ho voluto dedicarmi ci un pochino senza tuttavia togliere tempo a quello che era il focus vero e proprio quindi mi sono dedicato successivamente a scattare le fotografie dello showroom la tecnica è stata esattamente la stessa la difficoltà supplementare in questo caso era che la stanza era abbastanza piccola quindi trovare un posto per sistemare il mio treppiede e fare l'inquadratura non è stato così semplice anche a causa di mobili tavoli e altre suppellettili che erano in giro nello showroom e che ovviamente era meglio non spostare perché qualunque cosa spostiamo creiamo un ingombro proprio per il cliente che se lo deve rimettere a posto quindi per lavorare più snello possibile la difficoltà è stata incastrare il mio cavalletto in maniera tale da fare le angolazioni che volevo esattamente quelle che volevo quindi senza rinunciare a nulla senza rinunciare alla qualità però cercando di fare meno spostamenti possibili per quanto riguarda le foto ritratto la difficoltà principale è stata collocare la luce sempre per lo stesso motivo perché in questo caso avevamo un cavalletto quindi posizionare il cavalletto poi avevamo la piantana della luce quindi posizionare anche la piantana con il modificatore ora un octabox da 80 cm è abbastanza ingombrante quindi anche in uno spazio piccolo come quello non è stato facile trovare la giusta collocazione ricordiamoci anche che un modificatore non può essere piazzato vicinissimo al soggetto intanto perché entrerebbe nell'inquadratura e andrebbe a coprirmi la fotografia ma poi anche perché io più avvicino la luce e più avrò un'immagine contrastata quindi per avere il giusto bilanciamento la devo tenere un po' indietro non gliela posso mettere proprio in faccia al di là del fatto che accecherei il cliente non è mai una buona cosa ricordatevelo mai accecare i clienti quindi queste sono state le difficoltà principali per il resto è stato uno shooting abbastanza scorrevole in quanto fotografie di interni e fotografie di ritratto sono generi che mastico abbastanza bene quindi è stato uno shooting svolto tutto sommato in scioltezza nonostante mi abbia portato via comunque una mezza giornata piena veniamo alla post produzione ovviamente abbiamo la solita post produzione per quanto riguarda le fotografie di interni perché abbiamo il merge to hdr all'interno di camera raw quindi prendiamo i tre scatti realizzati separatamente li mescoliamo in una singola immagine che racchiude tutti i punti di forza dei tre scatti quindi avrà tutte le informazioni delle ombre e tutte le informazioni delle alte luci ovviamente questo ci permette la post produzione invasiva che sono solito fare su uno shooting di interni ci permette di consegnare al cliente un risultato tale per cui già ve lo dico questo cliente ha già richiesto un secondo shooting per una nuova sede che sta andando ad aprire quindi perché io vi dico di lavorare in qualità perché vi dico di fare il meglio che potete perché poi un cliente soprattutto un cliente per cui ne vale la pena se ne accorge del lavoro che avete fatto e vi richiama e queste sono sempre soddisfazioni la seconda parte della post produzione è stata per quanto riguarda il ritratto ora su questi ritratti è stata fatta una post produzione di ritratto che io definirei semplice perché non è particolarmente invasiva che comprende comunque separazione delle frequenze fotoritocco della pelle quindi la separazione delle frequenze è una tecnica che separa la texture dalla luminosità e consente quindi di andare a ridurre non le imperfezioni della pelle perché in questo caso erano ragazzi giovani non avevano rughe o cose del genere però consente di andare per esempio ad attenuare eventuali occhiai ad attenuare eventuali rughe di pensiero o di espressione e in generale permette di andare ad ammorbidire la pelle in maniera molto naturale molto diciamo quasi beauty è quasi una cosa un po' patinata però diciamo che serve per dare la giusta resa il giusto bilanciamento a delle fotografie che altrimenti potrebbero sembrare un pochettino grezze in questo caso siccome vogliamo come sempre consegnare il risultato migliore possibile qualitativamente andiamo a fare un briciolo di post produzione sulle foto che il cliente sceglie non su tutte ovviamente nel momento in cui viene consegnata una prima selezione il cliente sceglie le fotografie che vuole vedere post prodotte e solo su quelle viene fatta la post produzione veniamo alla consegna delle immagini le immagini in questo caso non sono tantissime erano tantissime quando io sono tornato dallo shooting perché avevo per ogni inquadratura i miei tre scatti hdr ma una volta fatto il merge to hdr le foto si riducono di parecchio avendo lavorato su cavalletto io butto via a cuor leggero i tre scatti di partenza e mi tengo soltanto i miei dng che pesano un botto assurdo perché contengono le informazioni di tre fotografie però quantomeno ho ridotto il numero di file e quindi nel momento in cui vado a esportarli per consegnarli al cliente le foto non sono poi così tante quindi ce la si cava semplicemente con un we transfer un normalissimo invio ftp con cui in una singola soluzione vengono consegnate tutte le foto già post prodotte a cui vengono richieste pochissime modifiche se non forse addirittura nessuna questo shooting è di un po' di mesi fa quindi in realtà non me lo ricordo ma sono abbastanza sicuro che non sia stata chiesta nessuna modifica una cosa in più che vado ad aggiungere è che in alcuni ritratti in alcuni scatti di ritratto corporate il logo posizionato sul muro alle spalle dello staff è stato raddrizzato in post produzione questo perché come vi dicevo prima la difficoltà è stata posizionarsi se io avessi avuto piena libertà di posizionarmi dove volevo avrei mantenuto il logo dritto nell'inquadratura non essendoci riuscito perché c'era del mobilio di mezzo ho ripreso il logo lievemente storto questo difettino è stato corretto in post produzione nel senso che ho ritagliato il logo dallo sfondo l'ho lievemente deformato e l'ho rimesso in prospettiva in maniera tale che stesse correttamente all'interno delle fotografie un logo storto posizionato sopra la testa dello staff in una fotografia corporate di questo tipo avrebbe un po' ammazzato l'immagine avrebbe fatto cadere la qualità e la professionalità dell'intero shooting per questo motivo sono andato a eseguire questa piccolissima modifica che mi ha richiesto veramente pochi secondi sono piccole cose che però possono fare una grande differenza ora per quanto riguarda la mia foto preferita io potrei stare qui delle ore a dirvi che le foto della villa mi piacciono tutte nello stesso modo perché sono bellissime questa villa era veramente spettacolare e fotografarla è stata un grandissimo piacere ma vi faccio vedere questa immagine come preferita perché secondo me potrebbe essere quella che rappresenta meglio quello che ho visto all'interno della villa diciamo che è quella che mi è riuscita meglio quella che rappresenta tutto quello che c'era lì dentro e inoltre è una foto abbastanza tecnica perché sono riuscito come vedete ad avere un buon dettaglio sia sulla parte luminosa quindi sulle alte luci sia sugli scavi delle ombre vi assicuro che il contrasto era veramente veramente forte perché c'era il sole che batteva direttamente qua fuori dalle finestre quindi non è stato facile ottenere un'immagine di questo tipo e ne sono veramente molto contento voglio condividere con voi questo pensiero io lo so che vi parlo sempre di qualità e lo faccio magari in maniera un po' astratta nel senso che parlo di qualità in senso lato parlo di qualità quasi come missione di vita ma in fin dei conti è questo che stiamo facendo perché noi qui nel lavoro che stiamo facendo e con la passione e l'impegno che ci mettiamo non siamo semplici artigiani non siamo artisti perché l'arte è un'altra cosa voi come sapete io non amo definirmi artista non amo che gli altri mi definiscano artista ma per un motivo semplicissimo perché appena si comincia a parlare di arte si comincia a ballare sul prezzo perché uno comincia a dire vabbè però io ti sto dando un'occasione tu altrimenti questa cosa non la faresti ecco io tutta questa roba non la voglio sentire io sto qui a offrire un servizio non a giocare non mi sto divertendo non sto facendo arte non sto facendo il pittore lo scultore o il ballerino non sto facendo niente di tutto questo sto offrendo un servizio è pur sempre vero che è un servizio di caratura artigianale nel senso che ha un procedimento ben preciso con delle fasi che devono essere rispettate proprio come un procedimento artigianale o industriale quindi a questo io mi attengo e questo è il tipo di servizio che vado a offrire tuttavia nel momento in cui ci metto del mio e la mia lavorazione ha un livello di perfezione che soddisfa i criteri dei clienti anche alti come questo si può anche cominciare a parlare di stile cioè io sono un artigiano realizzo un certo prodotto ma lo faccio con un certo stile questo stile non è necessariamente riconoscibilissimo anche perché in foto di questo tipo sono foto ripeto per il settore del lusso quindi non posso mettere un dragone o cose pacchiane o sfondi strani robe fantasy non è questo il discorso non è una questione di stile nel senso che devo mettere dei colori strani le foto sono abbastanza basic sono abbastanza flat perché io voglio consegnare al cliente la scena esattamente come lui la vedeva il cliente vuole questo da me quindi non è una questione di stile nel senso che sto facendo cose strane però la qualità e la cultura della caratura del lavoro che io mi porto dietro è visibile al cliente quindi anche se non ho fatto cose strane anche se non ho messo gibolli loghi filigrane il cliente poi si ricorda del lavoro che è stato fatto e ne richiede un secondo e queste sono le soddisfazioni ricordatevi sempre che quando il cliente vi tagga su facebook dicendo grazie per le bellissime foto di solito significa che non vi ha pagato quindi quelle non sono soddisfazioni e questo è il punto quella non è una soddisfazione grazie per le bellissime foto è il marchio dell'infamia è il marchio del fatto che non vi hanno pagato perché un cliente che ha ricevuto un bel lavoro non mi tagga sui social pubblica le foto ma le foto sono state pagate quindi non scrive grazie al fotografo per le bellissime foto le pubblica e basta come sue perché le ha pagate il giusto e la soddisfazione arriva quando ti richiama non quando ti tagga bene amici con questo siamo arrivati alla fine io come sempre vi invito a mettere un like a questo video e iscrivervi al canale perché ci saranno altri episodi con nuovi shooting sempre più sorprendenti e talvolta anche esilaranti per cui non siate timidi con quei mouse e io vi do appuntamento al prossimo video A presto